Esce giovedì per Feltrinelli il suo nuovo libro, L'infedele, una storia di ribelli e padroni. Gad Lerner, buonasera Gad, eccolo qua. Buonasera a te. Per Feltrinelli, L'infedele, che sei sempre tu, una storia di ribelli e padroni. Già essere fedeli alla propria infedeltà è un valore, no? In qualche modo. Dunque, quasi un'autobiografia politica attraverso le vicende, le traversie della sinistra, dell'essere di sinistra e come è mutato l'atteggiamento dei confronti, per esempio, di uno come te. E di uno come te, caro mio. Di quelli che si sono in borghesia. Allora, sono un po' in imbaraccio la prima volta che mi capita di parlarne perché di solito non sono per natura esibizionista, né tantomeno masochista, ma in questo libro scelgo, tra l'altro letteralmente all'inizio, di mettermi in mutande, non inorridiscano i telespettatori, ma insomma succede veramente. È una spogliazione simbolica. È una spogliazione effettiva che nel passaggio da un funerale a un viaggio alle Seychelles, sulla barca di amici imprenditori. Naturalmente il funerale è quello del padre, insomma, di tuo padre, certo. Col quale i rapporti sono stati difficili, ne avevo parlato in scintille, un libro che qui avevamo presentato. Se mi esibisco in questa maniera spudorata e anche un po' sgradevole, è perché penso che un'intera generazione ha vissuto passaggi esistenziali che vanno in qualche modo dichiarati, mentre avveniva una separazione, un dolorosissimo divorzio tra la sinistra e gli operai, tra la sinistra e chi ha vissuto una retrocessione sociale di reddito e non solo in questi anni. Il che fa sì che probabilmente l'ostilità che si riversa anche contro persone come noi, professionisti come noi. Diciamo che il benessere viene visto come misura del privilegio, in qualche modo, anziché del merito. O quantomeno stai zitto, non permetteti di fingerti ancora progressista, di avere a cuore. Non è concepibile che una persona che ce l'ha fatta... Anzi, ha maggior ragione che ce l'ha fatta. Vada contro i suoi interessi materiali. Anche invece per tanto tempo è stato contrario. Proprio chi ce l'ha fatta aveva il dovere morale di occuparsi di coloro che non avevano tempo di occuparsene perché erano impegnati a... O quantomeno di favorire, io faccio tanti esempi in questo libro, la possibilità che persone che hanno dovuto lavorare da bambini, i fondatori del movimento sindacale in Italia, Grandi, Buozzi e Di Vittorio, a 9-10 anni lavoravano già, poi hanno fatto gli autodidatti, ma sono cresciuti in un percorso nel quale il popolo non era quello che rivendicava l'ignoranza e la contrapposizione alla cultura. Al contrario... Anzi, il progresso sociale passava per la scuola, per la cultura e per il lavoro. È quello che oggi si è reciso. È l'ascensore sociale famoso che si è interrotto. È anche una separazione tra chi della sinistra giustamente è andato a governare questo paese, è caduto il muro di Berlino, non c'erano più ostacoli, non c'era più neanche il mito della classe operaia che liberando se stessa avrebbe liberato l'umanità intera, la centralità operaia nelle politiche della sinistra, risultato però una sinistra senza operai, cosa che secondo me fa molto male alla sinistra, ma anche a chi... E gli operai sono quelli di cui parleremo con Landini più tardi, che sono fuori dalla Whirlpool a tentare di difendere disperatamente il loro posto di lavoro per loro e per le loro famiglie. Landini è uno con quella biografia, è uno che la fabbrica e la consulta di persona. Assolutamente. Senti, in questi giorni, in queste ore, il malcontento che abita le piazze per il lockdown, secondo te, ha che al di là delle frange estreme che evidentemente ci sono, che si sono infiltrate, che ne hanno approfittate, che non vedevano l'ora, ma c'è anche questo disagio sociale dentro? C'è la mortificazione di un mondo, Gramsci diceva le classi subalterne, profondamente diviso al proprio interno, che vede una parte che ce la fa, e magari la parte che ce la fa ancora sono gli infermieri o gli operatori sanitari oppure le commesse dei supermercati che restano aperti e invece i camerieri dei ristoranti e dei bar che non ce la fanno. Un mondo che si divide perfino per età. So che in queste ore si discute se chi ha più di 70 anni debba rispettare delle norme che invece non valgono per chi ne ha di meno. Questa frantumazione è terribile, io credo. Quella che il Papa chiama cultura dello scarto, declinata in modi diversi, ma insomma che mi pare essere l'intellettuale di cuore più lucido del momento. Cominciano ad essere parecchi gli scarti, mi pare. E con l'idea, l'illusione, che certi diritti è meglio che ce li abbiamo solo noi perché non possiamo permetterci che ce li abbiano tutti, finisce quasi sempre la regola che abbiamo vissuto e questa, che li perdi anche tu.